Ragazzi, stiamo arrivando a Trieste Ragazzi, stiamo andando a Barcola a pescare Siamo a Barcola e si pesca Speriamo di pescare qualcosa in questa giornata uggiosa Speriamo di pescare Speriamo di pescare Speriamo di pescare Adesso ci sono i gabbiani Mentre siamo al lato di Garda Arrivano le anatre Mentre siamo a Trieste Ci sono i gabbiani Speriamo di pescare Speriamo di pescare Preso Andiamo Ok Abbiamo pescato un granchio Il granchio naturalmente lo abbiamo rilasciato Speriamo di pescare 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 Grazie. 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 Guardate questo pesce come è curioso. Grazie. Oggi non abbiamo trattenuto niente. Ci riproviamo domani. Centrifugaretino.